Le attese ne abbiamo viste di ogni tipo, questa volta è un'attesa diversa che coinvolge tutti noi, ma dobbiamo prepararci, perché quando tutto questo sarà finito, ritorneremo a baciarci, ad abbracciarci, ritorneremo a condividere i nostri sogni e poi ritorneremo a ridere, a ballare, ritorneremo a vivere quella spensieratezza che ci aiuta a star bene. Noi di Cromatica ritorneremo ad emozionarvi come abbiamo sempre cercato di fare in tutti questi anni.